Ciao ragazzi, allora questi giorni a lavoro sto facendo qualcosa che faccio di rato, ossia portarmi la pipa al lavoro, per carità io sapete quanto adoro la pipa, però sul lavoro preferisco il sigaro perché c'è veramente una differenza di comodità che è abissale, secondo me il sigaro si accende, si finisce, il mozzicone si butta, invece la pipa, devi stare là, dare attenzione alla fumata, è una cosa che ormai faccio in automatico, però preferisco sempre avere meno pensieri, meno occupazioni, mentre faccio altro. Però con la pipa mi sono ritrovato a dover finire la busta di un tabacco che ho comprato perché era l'unico di tutta la linea che ancora non avevo provato, questo è il Borkum Reef Original, 8,60 euro, 50 grammi, come ci viene descritto anche nella busta, vediamo così, qua si intravede un poco, comunque la ricetta consiste in un 40% di Virginia e 60% di Black Cavendish, allora ragazzi è inutile un po' lamentarsi della qualità dei tabacchi di un Borkum Reef, cioè si sa che a livello di qualità di tabacchi siamo in zona medio, medio bassa, però dai tutto sommato è anche dignitoso per quello che deve essere. A busta aperta si sente questo aroma un po' dolce, un po' anche liquoroso, c'è gente che ci ha sentito prugna, cioccolato, di tutto, io sinceramente sento liquore e alla fine, proprio alla fine, una punta di vaniglia, anche perché ragazzi, con tutte le aromatizzazioni ipotizzate, devo dire che è l'unica che ho trovato su internet, questa descrizione come leggermente vanigliato, ma che cosa dirvi? Sì, un po' si sente questo Virginia dolcino, così, di base, con questa aromatizzazione liquorosa che viene tutta riportata in fumata, non ho capito se il Black Cavendish parte da una base di Burley, che si sente alla fine, soprattutto della fumata, dove questo tabacco prende la via del sigarettoso, infatti spesso e volentieri non fumo proprio il fondo di questo tabacco, però brucia anche molto bene, quindi il tabacco è quello che è, per carità, ma il problema vero, secondo me, qual è? Questo credo che sia personale, mi brucia la lingua, di tutti quanti i tabacchi della linea Borkumurif, questo forse per me risulta il più grezzo, non ho uno stile di fumata aggressivo, però la lingua, c'è stato un momento in cui proprio me l'ha allessata, adesso invece che la busta è aperta da più di un giorno, qualche giorno, adesso la cosa è diventata gestibile, magari ecco il segreto sta nel far prendere aria la busta, non so cosa dirvi, lo ricomprerò? Molto probabilmente no, però insomma ho completato la linea di Borkumurif, di tutti i Borkumurif, forse l'unico che mi è piaciocchiato è stato il Borkumurif Black, quello che, insomma, doveva essere più cavendiscioso, però invece si è rivelato essere di tutti quanti, almeno quelli in vendita in Italia, che non sono tutti quelli in vendita all'estero, però di tutti quelli in vendita in Italia si è dimostrato quello un po' più complesso. Vabbè, non c'è molto altro da dire, in realtà con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!